e salve a tutti ragazzi e ben tornati sul canale rieccoci con la Q secondaria di Ghostware Tokyo oggi andiamo ad affrontare mamma dove sei guarda probabilmente sarà morta mamma dove sei? che succede? non trovo la mia mamma facevamo compere e si è scomparso sembra che si siano allontanate per sé se facevano compere da queste parti forse alla stazione non preoccuparti troveremo la tua mamma aspetta qui sei stato davvero gentile non so di cosa tu stia parlando perché KK in fondo ha il cuore d'oro trova la mamma della bambina ok si mi ha dato una zona di ricerca andiamo a vedere beh oddio è una zona abbastanza grande però visto che stiamo bello caldo visto che stiamo c'è anche un albero qua da liberare magari la mamma sta proprio qua ok abbiamo trovato la mamma ah cavolo sta dall'altro lato il cuore della e allora che cacchio devo trovare il modo di passare qua dentro aspetta qui c'è un cuore ah ok era tutt'uno a posto signora sua figlia sta bene la sta aspettando lisa sarebbe il nome di sua figlia sì mi sono distrata per un solo secondo e poi mi sono sentita come intrappolata non riescevo più a buono mamma lisa grazie a cielo ehi ti avevamo detto di restare lì o mi sbaglio non ce l'ha più fatta ad aspettare ma tutto è bene quel che finisce bene no grazie mille per il vostro aiuto ma di che sei figuri però sono curioso sei buono con i bambini perché eri un poliziotto chi lo sa comunque non potevamo lasciarla lì e poi essere buono fa solo parte del mio lavoro a posto d'accordo ragazzi e anche questa secondaria è abbastanza semplice è andata a buon fine noi ci rivediamo sempre qui sul canale con un nuovo video voi vi raccomando come sempre spolliciate mette like e iscrivetevi al canale un saluto da Bizzaragaret ciao ciao